Volete prepararvi al meglio per l'arrivo del pre-release di One Piece? Siete alla ricerca di un leader che possa fornirvi un vantaggio ai danni dell'avversario? Quali saranno allora i candidati ideali per l'evento che darà il benvenuto al terzo capitolo di questo TCG? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Come ogni set che si rispetti, anche OP03 avrà il suo pre-release in previsione intorno al 24 e 25 giugno, che vedrà moltissimi aspiranti re dei pirati darsi battaglia per l'aggiudicazione della winner di Vivi. Ma per chi ha preso il largo da poco, molti sono i dubbi. Ad esempio, come ci si debba comportare in un torneo simile, quali aspetti prendere in considerazione e soprattutto quale leader scegliere. Bene, per i primi fattori è stato pubblicato in collaborazione con Mircorco un videoguida, che potrete trovare nella scheda appena parsa in questo momento, dove attraverso dei punti ben strutturati si sono affrontati diversi aspetti del SILD che personalmente mi sono tornati molto utili, garantendomi un eccellente 4-1. Ma si parlava di OP02, dove i leader più utilizzati sono stati Zoro e Kid, con qualche pizzico qui e là di elementi esotici impiegati per la maggiore a scopo di test, mentre con Pillars of Strength saranno presenti ulteriori 8 personaggi, che guideranno alla carica mazzi sempre più agguerriti. Ma quindi, Arconte, quale leader mi converrà utilizzare in un evento di lancio? Sarà proprio in questo video che ne parleremo, sempre con il supporto di Mircorco, prendendo anche in considerazione le vecchie glorie, andando a formare infine una lista di 4-1 elementi validi che potranno accompagnarvi nell'avventura che affronterete nel pre-release della 03. Prima di iniziare, volevo invitarvi ad iscrivervi. Per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante. In questo modo, crescendo, si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più, non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook, dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie ancora in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i 4 leader più 1 migliori da utilizzare per il pre-release di OP03. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo con i pilastri che accompagnano i veterani da più tempo, ovvero Zoro e Kid. Per il primo, ogni volta che gli assegnerete un don nel vostro turno, fornirete 1000 punti di forza ad ogni caratter alleato. Abilità semplice e diretta che trasformerà anche personaggi con potenza pari a 3000 o 4000 in potenziali fonti offensive al vostro servizio. Quindi andrà da sé che lo spadaccino sarà una delle scelte più gettonate in caso di pre-release, soprattutto se si parla di nuovi giocatori. Infatti Zoro sarà a tutti gli effetti perfetto per chi si sta avvicinando al gioco, soprattutto perché ad ogni turno basterà segnargli un singolo don per sprigionarne tutto il pieno potenziale. Per Kid invece, nella vostra fase principale, una volta per turno potrete ripristinarlo spendendo 3 don e scartando una carta dalla mano. Qui invece, di solito la strategia vedrà attacchi più che massicci che nelle fasi finali di un match potranno rivelarsi davvero fatali. Nel caso del capitano della Victoria Punk, ho visto molto spesso assegnargli 7 don, attaccare per 13.000 per poi innescarne l'effetto, sferrando una seconda offensiva, sempre con forza, pari a 13.000. Andrà da sé che se l'avversario possiederà una o due vite, attraverso anche il supporto di diversi character presenti sul terreno, sprigionerete una potenza di fuoco che difficilmente potrà essere arginata. Passiamo ora all'unico leader che farà da rappresentante per la 02, ovvero il cuoco più famoso dell'intera saga. Sanji, una volta per turno, quando giocherete un personaggio senza effetti dalla mano e se ne controllerete 3 o meno in gioco, vi permetterà di ripristinare due don in stato di attivo. Di gialloni, ovvero elementi senza abilità, durante un pre-release sealed se ne potranno trovare molti e a tale scopo il calciatore calzerà a pennello soprattutto per l'impiego massiccio in campo di personaggi nel minor tempo possibile che potranno rappresentare un bello osso duro da mordere per l'avversario, che si ritroverà a dover far fronte ad una schiera di fonti offensive davvero impegnativa da dover arginare nelle fasi iniziali e centrali di un match. Tenetelo fortemente in considerazione nell'eventualità dovessero uscire dallo spacchettamento diversi character che si sposeranno perfettamente con l'effetto di questo leader. Arriviamo quindi al quarto personaggio, che vedrà Katakuri fare il suo ingresso in campo per la prima volta. Leader presente in OP03 vi permetterà, quando attaccherà, assegnandogli un singolo don, di visionare una carta presente nella zona delle vite avversaria, riposizionandola nella stessa posizione o in fondo ad essa, aumentando in seguito di ben 1000 punti il suo valore di forza. E qui non solo avremo un possibile candidato da Tier 1 dato il suo effetto davvero incredibile, ma durante il match avrete un vantaggio rispetto al vostro rivale davvero stupefacente, dato che conoscerete perfettamente quali potranno essere i vari effetti trigger presenti nelle vite agendoci in modo mirato, spostandoli a vostro piacimento per non rischiare di vederveli giocare contro. In più attaccherete per 7000, e quindi non ci saranno svantaggi assoluti nel voler vestire i panni di questo leader. E calcolando inoltre che in un pre-release sealed non ci saranno vincoli di colore o copie presenti in un deck, potrete sbizzarrirvi come meglio crederete. Ora, dopo aver visto quali saranno i quattro condottieri ideali per un evento di lancio, prendiamo in considerazione il più uno, che vedrà una presenza femminile calcare i campi da gioco. Nami sempre presente nel terzo atto di questo TCG avrà un effetto molto particolare. Infatti, quando raggiungerete zero carte presenti nel deck, vincerete il match, al contrario di quel che è riportato sul regolamento di gioco che invece prevedrebbe la sconfitta. In più assegnandogli un singolo Dawn potrete scartare una carta dalla cima del mazzo se questo leader infliggerà danni a quello avversario. Nami? Perché Nami Arconte? Lasciate che vi spieghi. Il deck sealed che comporrete nel pre-release non sarà composto da 50 carte, ma da 40, aumentando la possibilità di vittoria sempre se troverete degli elementi come lo Zef, l'Usop o altri che alimenteranno le dinamiche del mazzo durante la fase di composizione. Infatti, oltre al maestro di Sanji e al cecchino, ci saranno anche Gaimon, Kaia, Bodo, Belmer, Sogeking e gli Event, Asop, Rubber, Band of Doom e Gangam, Jangavel, che potranno aiutarvi al meglio per ciclare senza un domani l'intero mazzo. Non male come soluzione se vorrete sperimentare il potenziale della navigatrice, che sono certo dire la sua una volta che Pillars ci permetterà di impiegare al massimo ogni singolo elemento del suo set. Comunque ricordatevi che potrete scegliere quale leader utilizzare anche dopo aver aperto le bustine, e non per forza prima del torneo, quindi da casa magari portatevi Zoro, Kid e Sanji, se li avrete a disposizione, con la speranza di trovare gli altri due nei pacchetti, altrimenti fatevili prestare se ci saranno giocatori che non vorranno utilizzarli. Spetterà solo a voi scegliere, una volta ottenuta una panoramica più ampia e ben definita, data dal pool che otterrete, a quale guida affidare l'avventura che vi vedrà protagonisti. Buon divertimento e buona fortuna a tutti! E voi? Vi siete già fatti un'idea su quale leader ricadrà la vostra scelta? Come sempre fatemelo sapere nei commenti! Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento, prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!